Forza ragazzi, giù, giù, bene così 8.1, forza ragazzi, marchiamo Veloce, andiamo su 8.9, 9.0 Vero, bene così Mantenevi la così, eh Voi, votate Vero, 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 votate Fuori, 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 occhio di unire che mi coltome, fuori, fuori, 9.4, benissimo così, è importante che la panca non caldi, forza, forza, 10 secondi, andiamo un altro po', eh, via, via, potente, potente in mezzo, 2, 2, 2, 3, 10 secondi, e come, non registr situation Grazie a tutti